bonus edilizia ottenuti in maniera illegale indagini in corso da parte della procura di bari è stato dimesso dal policlinico il militare ucraino giunto dopo un combattimento per difendere la sua città natale l'estate del 2022 è stata la più calda della storia in europa secondo il web buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione di media terraneo news tre arresti e cinque denunce per false assunzioni una finta cooperativa agricola con sede a copertino nel salento la truffa ai danni dell'inps di circa un milione di euro sono finite agli arresti domiciliari rappresentante legale prestanome l'imprenditore e il socio fondatore della società fittizia secondo l'accusa avrebbero assunto braccianti con lo scopo di beneficiare di sovvenzioni e indennità a sostegno del reddito la procura di bari indaga su diverse persone che avrebbero ottenuto bonus in ristrutturazioni in maniera illegittima vediamo qual è la situazione del capologo pugliese nei prossimi servizi bari altamura sarebbero le basi logistiche di una mega truffa nell'ambito dei bonus edilizi le indagini partite da palo del colle hanno portato alla luce un gruppo dedito all'avanzamento di richieste di accesso e bonus o ristrutturazione per immobili inesistenti per un valore di 17 milioni di euro con i successivi approfondimenti è emerso un sodalizio criminale per cui sono perquisite 51 persone sette società in puglia basilicata emilia romagna e veneto intanto in tutta la puglia le richieste per il bonus sono state quasi 20 mila per una montare di investimenti ammessi pari a poco più di 3 miliardi di euro ad oggi sono 1481 i lavori condominiali già avviati di cui il 65 per cento è stato ultimato sicurezza occupazione fatturato in crescita da un lato dall'altro gli abusi che mandano in tilt il sistema edile sono i pro e i contro del super bonus 110 per cento i contributi destinati dal governo a tre tipi di intervento sugli immobili ristrutturazione delle facciate efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico positive le ricadute economiche in puglia dove però si è pensato molto all'estetica delle palazzine e molto poco al risparmio energetico tra le criticità della misura ci sono le troppe richieste consentire a tutti i condomini l'accesso indiscriminato ha innanzitutto drogato il settore e poi ha fatto sì che ci fosse un'enorme domanda rispetto alle potenzialità delle imprese stesse una soluzione potrebbe essere quella di scaglionare gli accessi al bonus in base all'anno di costruzione dell'edificio da riqualificare avrebbe reso il sistema più razionale non avrebbe creato quegli accessi di domanda che poi alla fine hanno prodotto difficoltà nelle imprese stesse perché hanno avuto difficoltà nei recepiti materiali e avremmo avuto la possibilità di riqualificare veramente il nostro patrimonio edilizio altro problema le speculazioni per fermarle bisognerebbe impedire l'accesso alla misura a quelle società create ad hoc c'è stato poco controllo ma di recente qualcosa è cambiato le truffe che sono venute a galla sono tutto sommato una piccola parte rispetto ai lavori che sono stati fatti e per quanto per quella che la nostra esperienza sono più concentrate relativamente ai bonus facciati proprio perché non c'era un controllo sono stati individuati gli autori della rapina allo zoo safari di fasano del 20 settembre 2020 si tratta del fasanese jonathan manchisi di 41 anni e di roberto romano 33enne della provincia di bari nei loro confronti è stata messa la misura cautelare dell'obbligo di dimora al loro carico reati di rapina pluriaggravata detenzione porto illegale in luogo pubblico di più armi da sparo i due indagati mascherati armati di pistola si fecero consegnare quasi 13 mila euro dalle casse dello zoo un soldato ucraino ferito in guerra ad un braccio è stato trasportato in aereo e curato in puglia il servizio di rosanna luise è stato un successo l'intervento di chirurgia ricostruttiva effettuato al policlinico di bari dopo tre mesi grazie all'ortoplastica il militare ucraino ferito al braccio nella città natale di zaporigia e trasferito nel capoluogo pugliese ha ripreso a muovere le dita della mano una sfida quella della ricostruzione del radio superata come ha testimoniato il professor biagio moretti direttore della clinica universitaria di ortopedia e traumatologia di bari la possibilità di poter trattare questi casi con grosse perdite sostanza sia di parti molli che di osso è una sfida che oggi la nuova chirurgia ortopedica e plastica cioè la chirurgia porto plastica ha come suo scopo un intervento reso possibile grazie al policlinico e alla collaborazione tra chirurghi ortopedici guidati dal professore biagio moretti e chirurghi plastici seguiti dal professor giuseppe giudice sicuramente il policlinico di bari è uno dei centri fra i pochi in italia sicuramente fra gli unici nell'italia del sud che si occupa di questi traumi complessi che purtroppo sono molto frequenti immaginati i traumi sul lavoro i traumi da incidenti stradali che solo questa ortoplastica diciamo questa nuova scienza che è nata da un decennio forse ci consentirà di portare all'aggiungimento dei migliori risultati dal punto di vista morfologico ma soprattutto funzionale ha suscitato clamore il manifesto pubblicitario contro l'utilizzo dei vaccini a taranto affisso di fronte ad una scuola vicino al tribunale un medico con la siringa alcune bare e la frase informarsi per salvarsi sono questi gli elementi presenti sul cartellone un chiaro segnale di chi è contrario scettico alle vaccinazioni il manifesto è stato firmato da un'avvocata ma sull'accaduto stanno indagando i carabinieri e la digos l'estate 2022 la più calda d'europa ha comportato gravi danni al settore agroalimentare con perdite di oltre 6 miliardi di euro i dettagli nel servizio di emanuele palumbo la siccità ha messo in ginocchio l'agricoltura italiana secondo l'ultimo report del vf la grave situazione climatica ha causato un crollo della produzione agroalimentare per al 10 per cento con perdite di oltre 6 milioni di euro in alcuni casi il quadro è drammatico il 70 per cento in meno per diverse verità di frutta e verdura tra il 50 e il 60 per cento in meno per il mais tra il 10 e il 30 per cento in meno per il grano la puglia non è stata risparmiata dalla crisi in cui si è già perso un terzo delle produzioni frutta grano e avena registrano un meno 30 per cento le olive addirittura meno 40 ci sono degli articoli orto frutta che hanno subito parecchio fin dall'inizio della primavera con il grano poi successivamente tutt'altro oggi siamo ancora alla raccolta delle olive e molte olive sono cadute per la siccità così come dicevo per l'orto frutta è chiaramente acqua che ha un costo l'energia per pompare acqua altrettanto ma non possiamo ancora quantificare fine anno si vedrà che perdita avrà questa coltivazione di qualsiasi natura che sia ma di tutta l'agricoltura comunque il 3 negativo rende l'italia dipendente dagli altri paesi ma anche la situazione internazionale è preoccupante la produzione mondiale di grano per il 2022 2023 è in calo proprio la resa del grano potrebbe addirittura diminuire a livello mondiale del 6 7 per cento per ogni grado celsius in più secondo uno studio della wheat initiative alla stessa variazione di temperatura si ridurrebbero in media anche le rese di riso meno 3,2 per cento mais meno 7,4 per cento e soia almeno 3,1 per cento bari è stata scelta come set per il film settimo che andrà in onda su netflix i dettagli dal nostro inviato luca scattarella bari torna ad essere scelta come set cinematografica nei giorni scorsi infatti sono iniziate nel capoluogo pugliese le riprese del thriller septimo un film che andrà in onda sulla piattaforma netflix e che sarà prodotta da piccomedia con la regia di renato de maria un cast d'eccezione per questo film con gli attori protagonisti che saranno il pugliese riccardo scamarcio e l'attrice britannica annabelle wallis famosa per le sue partecipazioni in pellicole d'eccellenza come la mummia king arthur e x-men le origini tra l'altro nel porticciolo che vedete alle nostre spalle la wallis ha fatto uno scatto che è diventato molto famoso sul suo profilo instagram dove appunto è ritratta mentre sorseggia un drink inoltre saranno tantissime le strade e le piazze che fino a martedì 1 novembre fino alla mezzanotte di martedì 1 novembre saranno limitate al traffico per consentire il regolare svolgimento delle riprese tra le quali appunto abbiamo piazza del ferrarese piazza del mercantile corso cabur e anche il ponte adriatico non si hanno ancora notizie certe per quanto riguarda la trama del film e la data d'uscita quel che è certo è che verrà registrato in lingua inglese che poi verrà doppiato in italiano e tutto con l'informazione di media terra new news l'appuntamento nella prossima edizione